E se è possibile, voltiamo pagina. La solennità di Pentecoste a livello diocesano è stata celebrata con numerosi appuntamenti preseduti dal Cardinale Arcivescovo. Sabato pomeriggio è stato amministrato il Sacramento della Cresima, centinaia di ragazzi delle parrocchie di città. In serata si è tenuta una veglia di preghiera a cui hanno partecipato i rappresentanti di associazioni, gruppi e movimenti laicali. In mattinata la visita pastorale a San Prospero di Savigno è in serata al solenne pontificale in cattedrale. Le ricche omelie dell'Arcivescovo sono disponibili nel sito internet della diocesi. In esse si attira l'attenzione soprattutto sulla consistenza dell'atto di fede. La nostra città, ha detto il Cardinale nell'Omelia della Sera, ha un immenso bisogno di speranza, ma la disperazione è figlia primogenita della solitudine. Non abbiamo bisogno di un amore qualsiasi, ma di un amore incondizionato. La vera grande speranza dell'uomo che resiste nonostante tutte le delusioni può essere solo Dio e la certezza che ci ama.